Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Calabria News 24. In apertura la cronaca carnevale di sangue a San Cosmo Albanese, un 17enne è morto, cadendo da uno dei carri allegorici allestiti in occasione della festività. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, sentiamo. Tragedia a San Cosmo Albanese, paese Erbrecht del Cosentino. Un giovane è morto nella serata di ieri a causa di una caduta da un carro allegorico. In particolare una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, di rientro da un altro intervento, è stata fermata da alcuni automobilisti lungo la strada provinciale 183 per la presenza di un corpo riverso a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma per la vittima non c'era più niente da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo si trovava dunque su un carro allegorico, trainato da un trattore, che dopo una sfilata di carnevale nella frazione San Giacomo D'Acri stava andando a San Cosmo Albanese per un'altra sfilata. Lungo la strada il giovane, per cause in corso di accertamento, avrebbe battuto la testa cadendo dal mezzo. Il conducente del trattore non si sarebbe accorto di nulla e ha proseguito la marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano, che stanno continuando le indagini per accertare l'esatta causa dell'incidente. La procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia su 17enne. I carabinieri a Isola Caporizzuto hanno eseguito 60 denunce nell'ambito di controlli finalizzati al contrasto agli illeciti sul reddito di cittadinanza. Sono stati infatti scoperti 60 soggetti, di cui 14 condannati per mafia, che percepivano illecitamente il sussidio. 60 persone, 14 delle quali condannate in passato per associazione mafiosa e allo Stato Libere, sono state denunciate dai carabinieri nel Crotonese per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne titolo. Il danno a carico dell'Inps è stato stimato per oltre 600 mila euro. I carabinieri della compagnia di Crotone hanno denunciato i 60 alle procure di Crotone e Catanzaro per false dichiarazioni e false attestazioni. Le indagini hanno preso avvio ad aprile 2022, quando durante l'emergenza Covid, nel corso di alcune verifiche in esercizi commerciali, i militari hanno accertato la presenza di lavoratori, che non regolarmente assunti risultavano invece percettori del reddito. Sono state pertanto acquisiti dati di riscontro che hanno consentito agli investigatori di appurare un ingente quantitativo di nominativi, tutti residenti a isola Caporizzuto, beneficiari dello stesso sussidio. Tutte le posizioni sono state analizzate singolarmente in ogni documentazione e presupposto personale ad origine del beneficio concesso e nei casi accertati è risultata l'elusione della normativa con la presentazione di false attestazioni o omettendo dati di interesse personale. Andiamo avanti, la task force dell'Ispettorato del Lavoro ha sospeso 11 aziende in Calabria ed individuato altre 32 risultate irregolari che sfruttavano le maestranze e che sono quindi rientrate nell'operazione per il contrasto al caporalato. Terminata la missione avviata in Calabria nello scorso mese di gennaio dalla task force dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per contrastare fenomeni di caporalato e sfruttamento delle maestranze. Al termine dell'attività che ha riguardato in particolare il territorio della Piana di Gioia Tauro dove si registra una consistente presenza di braccianti extracomunitari impegnati in particolare nella raccolta di agrumi è stata disposta la sospensione di 11 attività imprenditoriali. Sono state verificate inoltre 246 posizioni lavorative 80 delle quali sono risultate irregolari 33 persone lavoravano in nero un bracciante extracomunitario era privo di permesso di soggiorno mentre 5 lavoratori italiani erano impiegati nei lavori malgrado fossero percettori di reddito di cittadinanza. Sono state emesse inoltre 14 prescrizioni per omessa formazione e visite mediche e per altre violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le violazioni penali che sono state accertate l'ispettorato provvederà ad informare l'autorità giudiziaria. Ancora cronaca, sono stati avviati dei controlli da parte dei NAS nel Reggino che hanno portato alla denuncia di un medico che esercitava la professione anche in uno studio privato non autorizzato. Un medico di medicina generale è stato denunciato in stato di libertà a Reggio Calabria per aver esercitato la professione in uno studio privato in ambito territoriale e comunale diverso da quello autorizzato e dichiarato nell'atto di convenzione con l'azienda sanitaria provinciale. Il caso è emerso a seguito dei controlli svolti dal NAS di Reggio Calabria nell'ambito delle attività pianificate a livello nazionale di concerto con il Ministero della Salute e mirate a controlli negli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. I militari nel corso delle attività hanno svolto ispezioni all'interno degli studi medici allo scopo di accertare la presenza del sanitario nei giorni e negli orari comunicati all'ASP e per svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell'ambulatorio. All'interno dello studio dove era presente il medico reggino denunciato è stata accertata inoltre l'attivazione abusiva di un centro medico di fisioterapia munito di apparecchiature elettromedicali. L'intero ambulatorio del valore complessivo di circa 600 mila euro è stato sottoposto a sequestro. Cambiamo argomento, parliamo di politica, chiudiamo l'ampia pagina dedicata alla cronaca si terrà domani a Palma de Mallorca il vertice internazionale sul futuro dell'Europa e del Mediterraneo dell'ufficio politico CRPM ovvero della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime sarà presente per rappresentare la Calabria anche il Presidente Occhiuto. È fissata per giovedì 23 febbraio a Palma de Mallorca la riunione dell'ufficio politico della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime all'importante evento internazionale sarà presente anche il Presidente della Regione Roberto Occhiuto insieme ad una delegazione regionale composta dal Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria Maurizio Nicolai e dal Consulente del Governatore Agostino Miozzo in qualità di componente dell'ufficio politico della Commissione la riunione sarà un momento di confronto tra i Presidenti delle Regioni della Commissione sia europee che africane per affrontare i temi salienti relativi alle politiche per il Mediterraneo dinamiche che si attueranno nei prossimi anni Tra i punti all'ordine del giorno infatti è prevista la discussione sulla proposta di legge che la Commissione europea ha pubblicato il 22 giugno scorso sul ripristino della natura la prima legge sul cambiamento climatico a livello continentale La delegazione regionale guidata dal Presidente Occhiuto è impegnata affinché nell'assise di Palma de Mallorca venga ufficializzata la scelta della Regione Calabria quale sede della prossima Assemblea Generale Politica della Commissione Intermediterranea Su questi temi, ha sottolineato il Presidente Occhiuto verificheremo la nostra capacità di guardare al futuro Questa era la nostra ultima notizia Io prima di salutarvi vi ricordo come sempre gli orari con l'informazione di Calabria News 24 Noi torniamo tutti i giorni alle 13.30 e alle 19 Grazie per averci seguito A tutti voi una buona giornata